Il mio faro è quello che mi ha insegnato molto nella mia vita. E' quello che, diciamo, mio papà è nato nel 1905 e nel 15 tutta la famiglia durante quando è iniziata la prima guerra mondiale con mia nonna. Tutta la famiglia si sono stati portati, erano profughi ad Ivrea dove avevano la possibilità di lavorare dai contadini. Hanno trovato famiglia molto molto buona, così che si trovavano, hanno passato tre anni. Mi ha detto profughi, però lavorando, aiutando i contadini hanno passato anche bene. Quindi per forza di cose ha fatto la quinta elementare ed era quello che mi ha insegnato tante cose. La frase che non dimenticherò mai, che mi ha detto, sai Yoshco, se vogliamo la qualità dobbiamo lasciare i vigneti che verranno concimati dai conigli. Era un pensiero suo di dire non usiamo concime chimico, non usiamo certe cose, certi pesticidi che poi è chiaro che daranno problemi per il futuro della terra. È chiaro che da giovane anche lì non ero molto d'accordo con lui, ma devo dire che ho capito che aveva ragione, ma veramente aveva ragione. Soprattutto per quanto riguarda le concimazioni chimiche, sono già 27 anni che non ho un granello di concime chimico in casa. Nel momento che ho capito che la concimazione chimica per la terra è come la droga per l'uomo, ho smesso di usare. Ed è chiaro, se la droga per l'uomo rovina la mente, la concimazione chimica per la terra rovina tutti i microorganismi che sono quelli che tengono il terreno vivo, che rigenerano continuamente il terreno. E aveva ragione, però io a 20 anni non capivo questo, no? E mi ha detto, sai, dobbiamo cercare di fare poco il buono. E io gli ho risposto, papà, sei vecchio, dobbiamo fare tanto il buono. Ci ho provato e devo dire che anche lì aveva ragione lui. Poi comunque ho capito che non c'è nessuna novità per fare un prodotto più buono. Solo, poco e poi è anche fatica, perché senza fatica non c'è un risultato buono, no? E il vino è un sinonimo di fatica. Quando avevo 21 anni abbiamo fatto un vigneto e di domenica abbiamo lavorato, mia moglie e io abbiamo tracciato i filari. Abbiamo lavorato dalla mattina, dal buio al buio. Il giorno dopo è arrivato mio papà, ha guardato un po' i filari e mi ha detto, se io usco, la partenza è stata fatta male, si deve rifare, no? Per fortuna che mi ha avvertito di questo, perché a 20 anni l'esperienza ti manca e quindi è importante avere uno che ha l'esperienza, che ti insegna queste cose. Lo devi anche ascoltare, è chiaro, no? Se ti va bene che non sbagli, hai fatto un buon risultato. Altrimenti è chiaro che hai bisogno di aspettare un altro anno. Quindi vuol dire che il vino buono inizi a farlo quando i capelli iniziano a diventare grigi, perché hai più esperienza alle spalle e anche i problemi che li hai a 20, 30, 40 anni, a certa età non li hai più, no? E quindi dedichi tutta la persona, dedichi a questo lavoro, no? Che da giovane sono anche altre robe ancora più importanti, che vanno, sono giuste per le persone giovani. Negli anni 60 abbiamo iniziato a portare i vitigni convenzionali, Pinot Grigio, Chardonnay, Sauvignon. E quando con mio papà, che io ero ancora molto giovane, anni 65, 70, assaggiavamo questi vini e per l'ultimo si arrivava alla Ribolla, al mio papà il sorriso andava fino alle orecchie e mi diceva, «Vedi, Josco, questi sono i vini per il commercio e questo è il nostro vino, la Ribolla e il vitigno che è qui da noi da tanti anni e questo ha un'altra anima». E la prima volta che è venuto a trovarmi Gino Veronelli, nell'82, a Gino Veronelli ho detto «Sai Gino, il mio sogno è un giorno riuscire a fare solo la Ribolla». E poi lui non era detto «Ma è un peccato perché fai un ottimo Sauvignon, fai un ottimo Pinot Grigio, Chardonnay, sono molto buoni». E mi ha chiesto «Ma perché vuoi fare questo?» E gli ho risposto «Sai Gino, qui da noi la Ribolla è da due o trecento anni che vive in queste terre». Bene, Gino Veronelli dopo dieci giorni mi ha chiamato e mi ha detto «Sai Josco, la Ribolla da te è da oltre mille anni, quindi hai ragione a puntare solo sulla Ribolla». Io l'ho ringraziato veramente e devo dire che anche Gino Veronelli, quello che ha fatto lui per il piccolo contadino, farà parte della storia perché amava il piccolo contadino e lui diceva sempre «Preferisco il peggior vino del contadino rispetto al migliore dell'industria». e devo dire che in quel momento non ero, anche su quello, non ero tanto d'accordo su quello che diceva, ma più che i capelli diventavano grigi, più mi rendevo conto che aveva ragione. E poi anche quando cerchi di fare il vino in modo semplice, è chiaro che non sempre tutto ti va bene, qualcosa può andare anche male, che esci con un vino che non è tanto buono, ma anche questo qua fa parte della vita, fa parte della vita che può succedere a me, può succedere ad altri produttori, però abbiamo la possibilità di migliorare l'anno dopo e quindi l'impegno c'è e la voglia anche di fare. E anche per i ragazzi giovani che cercano di fare vini semplici, chiamiamoli fra virgolette naturali, anche se non è possibile parlare del vino naturale, però sono contento per loro che ci sono e ci sono in tanti, quindi mi danno una speranza che tutto non finisce solo alle mani del vino industriale. Bene, sai, da giovane ho cercato di seguire un po' quello che a scuola ho imparato, leggevo molti libri anche poi di enologia, di enologi famosi del mondo, cercavo un po' di seguirli, certo per fortuna dietro la capacità a finanziare che da piccolo contadino avevo, quindi non c'era grande tecnologia, ma malgrado questo è entrato in cantina l'acciaio inossidabile, è entrato il filtro, sono entrate le chiarifiche sui mosti ed era dopo tutti questi anni di lavoro mi sono accorto di aver sbagliato. Comunque devo dire che c'era già mio papà che era a mio fianco che mi diceva questo non è fare il vino, questo fa parte di accontentare il mercato del momento e aveva ragione. Certo che in quel momento io gli ho risposto che papà sei vecchio quindi non capisci cosa è il vino, invece lo capiva molto bene, ma era tanto permessivo che comunque mi ha detto provaci poi vedrai che forse un giorno tornerai sulle mie. E quando sono tornato sulle sue gli ho chiesto scusa, lui era già in paradiso, comunque io gli ho chiesto scusa e gli ho detto papà avevi tu ragione. Mio tio Franz nel 1996 quando abbiamo avuto due grandinate in tempo di due giorni. Alla seconda grandinata ero sulla soglia della porta, bestemmiavo la natura, bestemmiavo tutto quello che era possibile. Dietro le spalle mi arriva Zio Franz e mi dice Josco non comportarti così perché la natura ci dà tutto e ogni tanto ha il diritto di prendere. bene, quel giorno ho capito che la mia è un'azienda senza tetto e quindi dobbiamo accettare anche quello. Nessuno mi ha spinto a fare il mio lavoro e di conseguenza devo portare in considerazione anche tutto questo che è anche bello, ti fa mettere i piedi per terra, non puoi fare il contadino, non puoi volare perché c'è sempre quello sopra di noi. Io dico che il vino è se guardiamo ogni persona dentro in sé il diavolo e l'angelo. L'importante è far funzionare l'angelo, no? Poi sei sulla strada giusta perché il diavolo è sempre più potente e il vino è anche a questo carattere dell'angelo e del diavolo e anche nel vino devi far funzionare l'angelo. Quindi l'onestà è al punto di partenza e l'etica è anche quella che poi se hai quello puoi fare un vino che ti può soddisfare. Certo che se vuoi la qualità assoluta non sei mai contento perché ogni anno hai un gradino che scivoli e poi magari l'anno dopo cerchi di superare quel gradino ma arriva un altro. Diciamo che già il contadino per se stesso come personalità è un individualista perché se ami la terra non puoi essere uno che ami questa grande società. La devi amare però cammini con i propri piedi anche perché per esprimere il tuo pensiero non puoi dividere con gli altri. Lo puoi dividere però dipende con poche persone puoi dividere. Quindi è un lavoro che devi farlo da solo e sono sempre più convinto che se paragoni un contadino che è produttore di uva e di vino io lo paragono con un alpinista dico che sul monte Everest non puoi andare con la corriera devi andare da solo cercare il punto più alto. Con il vino questo non ti succederà mai di toccare la punta dell'Everest perché come ho detto prima hai ogni anno un gradino dove scivoli e devi riprenderti da quel gradino sperando che l'anno dopo lo superi ma arriverà un altro che ti frega. E questo è il bello anche e questo penso che veramente è il valore di fare il vino perché cerchi di toccare la punta più alta più alta e a nessun produttore sarà questo permesso. Non è che sarà permesso non sarà in grado di toccare quella punta e per questo è un fatto che la viticoltura e l'enologia ha 6.000 anni di storia perché tutti corriamo dietro quella punta senza riuscirla a toccare. È da 6 anni che siamo nella coltivazione biodinamica senza notare niente perché la biodinamica per la terra è per l'uomo un po' come la fede non c'è bisogno che ti esponi a farsi vedere di che fede sei per avere interesse. Io dico la biodinamica nella mia terra è per la mia terra per me e per il consumatore. Agiosha che è il mio operaio preferito che è qui da me da 25 anni mi ha detto spero che non lavoriamo per niente perché anche lui era un po' perplesso vedere questi grammi di prodotti che vengono dinamizzati e poi cosparsi sulla terra quindi era anche lui un po' preoccupato e dopo due anni mi ha detto incredibile risultato sulla terra che viene fatta. Quest'anno in primavera che era una primavera molto bella asciutta abbiamo un po' lavorato la terra vicino le viti e Angel mi ha detto sai mi sembra che la terra quando la lavora sta saltando verso il cielo era la più bella cosa che si può fare e quindi noi viticoltori noi contadini non abbiamo bisogno di piante nuove resistenti alle malattie noi abbiamo bisogno di sanare la terra niente altro perché siamo contadini e non c'è bisogno di formare altre piante resistenti queste piante resistenti lo saranno per un paio di anni e dopo crolla tutto perché verrà la natura a portare un'altra malattia ancora più potente quindi ancora più pesticidi questo purtroppo fa parte poi dell'interesse delle industrie che vogliono sempre vendere qualcosa a scapito di noi umani e a scapito soprattutto della terra venti anni fa quando ho iniziato a fare a usare a fare il vino nelle anfore un signore mi ha proprio espressamente mi ha detto sai Oshko ti sei messo sulla schiena venti anni di guai perché essere troppo avanti vuol dire metterti da parte perché nessuno apprezza questo quando sei troppo avanti sei indietro di 50 anni bene l'idea per passare alle anfore mi è venuta nel momento che in un viaggio che ho fatto all'estero ero veramente ero triste per quello che vedevo tutti i vini uguali dal nord al sud ma non dell'Italia del mondo quindi in quel momento ho detto basta con questo modo di fare i vini con stessi lieviti in acione ossidabile con stesso modo quindi più o meno i vini tutti uguali e soprattutto poi filtrati quindi senza anima un progetto per il futuro che ho e lo faccio così veramente senza fondi non chiedo niente a nessuno né contributi né prestiti perché quello che cerco da fare cerco da fare da solo con i miei soldi piano piano però è un progetto che per il futuro è il giardino delle anfore dove che fuori sul territorio qui mio sul cortile metterò a dimora 14 anfore per far fermentare il vino anche fuori e quindi perché ho capito che è una cosa molto importante il vino deve vivere con l'universo e quindi respirare con la luna con il sole e per fare questo poi per trasmettere a chi lo beve delle emozioni che altrimenti possono essere perse posso dire che è uscito fuori di me questo desiderio di passare al modello più vecchio di vinificazione che all'inizio mi ha creato tanti problemi mi ricordo sempre quando che in una rivista hanno criticato per bene il mio vino alla camera di commercio mi hanno scartato il vino non so come è venuto a sapere Gino Veronelli e mi ha chiamato e mi ha detto Iosco io ho la lettera pronta per mandare a queste persone per proteggere il tuo lavoro semplicemente io l'ho ringraziato Gino gli ho detto ti ringrazio veramente per il tuo pensiero verso di me e ti prego non fare niente se avrò bisogno di un aiuto tuo quando uscirò con il primo vino in anfora perché avevo già le prime anfore in casa ti chiederò un aiuto attualmente la mia cantina delle anfore fra virgolette non si chiamano anfore ma sono queveri perché in Georgia nel caucaso vengono chiamati queveri all'inizio non si chiamavano neanche queveri si chiamavano ciuri da ciuri poi è passato a queveri bene la mia cantina di queveri adesso è coperta è quella dove siamo adesso seduti diciamo che per certi versi questa cantina al grande vantaggio siccome è chiusa al grande vantaggio che durante la fermentazione il mosto che crea CO2 che si forma durante la fermentazione questa CO2 che è più pesante entra nelle anfore vuote dove devo caricare ancora l'uva e il mosto quindi facilita la pertenza della fermentazione ed è una cosa positiva è chiaro il giardino delle anfore non avrà questo vantaggio perché la CO2 che uscirà si perderà nel lì al di fuori ma il vino avrà altri 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 modo di svilupparsi molto bene perché sarà a contatto con l'universo ed è la cosa più bella anche perché l'universo è quello che in pratica poi è quello che ci nutre e ci fa andare avanti beh è chiaro quando capisci che il valore del vino sta nei vitigni autotoni quindi per quanto riguarda i vitigni bianchi ho puntato tutte le forze sulla ribolla per non perdere l'energia a produrre altri vitigni quindi è chiaro che ho dovuto dalla mia azienda eliminare il pinot grigio Sauvignon Chardonnay e Riesling Italico quattro vitigni convenzionali che non è che facevano che il vino era cattivo però era quello che a me personalmente non soddisfava e quindi io non potevo più andare a potare dei vitigni andare a lavorare i vitigni che non mi soddisfano quindi ho eliminato quelli ho ancora dei vitigni convenzionali che sto coltivando che è il Merlot e il Gabernet Sauvignon c'è il mio ruino è composto di 90% di Merlot e circa 10% di Cabernet Sauvignon anche questo sarà piano piano eliminato però adesso non è che ho più 50 anni l'età va su e quindi devo fare più con calma però nel pensiero è già di sostituire anche quello il pignolo fa parte dei quattro vitigni autoctoni friulani quindi c'è pignolo tazzelenghe schiopettino e re fosco assaggiando queste quattro uve da Dorigo da Girolamo Dorigo che mi ha dato la possibilità di assaggiare e poi di scegliere le marze il pignolo era quello che come gusto di uva era il più buono e ho scelto il pignolo e devo dire che non per niente si chiama pignolo è veramente un pignolo è un vitigno talmente difficile che a fare la qualità ha bisogno a sistemarsi la vita ha bisogno di 15-20 anni per dare i frutti giusti i vini rossi sia il pignolo che il ruino fanno due mesi circa di anfora che è il tempo di fermentazione questo va varia dalla nata alla nata perché c'è la nata che magari la fermentazione dura anche oltre due mesi e c'è la nata che in tre settimane la fermentazione è finita è chiaro che la migliore nata è quella dove la fermentazione è di due tre mesi perché c'è più sostanza da portare avanti dopo la fermentazione alcolica i vini rossi il pignolo e il ruino vengono torchiati e passano in botte dove l'affinamento è di quattro anni il resto poi viene affinato in bottiglia sia il ruino che il pignolo escono dopo quattordici anni dalla mia cantina lavoro a ciclo di sete perché sete è il ciclo anche per noi umani dove che una persona ogni sette anni cambia tutte le cellule senza che noi non ci accorgiamo di questo a sette anni il bambino compie la prima adolescenza la seconda a quattordici la seconda la più importante quindi da bambino da bambina diventa dona da bambino uomo a 21 anni è maggiorene a 28 anni è adulto e poi malgrado questo ogni sette anni si cambia tutte le cellule e sono un po' il fatto di inizi bene i sette anni li porti bene avanti i sette anni quindi questo cerco anche di trasmettere al mio vino con un costo molto alto perché tenere un vino per sette anni fermo prima di imbottigliarlo e poi da venderlo otto mesi dopo se non è una cosa semplice è un valore aggiunto di costi che è enorme e tante volte veramente mi dispiace per il fatto che certi miei vini vengono paragonati e criticati assieme ai vini dell'ultima nata in commercio quindi anche dico che nel vino il valore dell'età ha un ruolo molto importante perché il tempo e il giudice più severo lì tutti i nodi vengono al petine io dico che un vino al primo anno non ha avuto il tempo né di diventare buono e neanche di diventare cattivo quindi perché c'è il minimo rischio di produzione ma questo modo di produrre sia in campania che in cantina senza l'intervento ti chiede più tempo di lavoro più tempo di pensare è più sacrificio perché non fare errori quindi fare solo il necessario per la lavorazione della terra anche è da stare attenti quando fare cosa fare certo che certi lavori quando li fai devi fare sempre con uno scopo di migliorare la terra perché a sua volta se migliori la terra migliori anche le condizioni della vita della vita che vivono su questa terra e quindi cerchiamo di fare dei sovesci semine delle erbe e quello che ho detto prima anche il fatto di usare il corno corno letame di usare il corno silice il corno silice è una cosa molto interessante vanno pochi grammi a ettaro di corno silice dove vengono dinamizzati e in certi periodi favorevoli che si controlla l'orado in che momento viene distribuito fanno sì che viene cosparso sulle foglie e si formano questi cristalli si formano come lenti di ingrandimento e succede questo che la pianta assorbe più luce solare ed è un vigore per la pianta molto importante sicuramente non è un valore di concimazione chimica dove che dai la forza e poi uccidi perché come ho detto prima uccidi le cose più importanti che sono i microorganismi e se l'agricoltura adesso in questi momenti ha bisogno di tanta acqua per portare a termine certe coltivazioni è grande causa delle concimazioni chimiche la concimazione chimica è come un cibo troppo salato magari a uno piacerà di più però avrà anche più sete perché ti asciuga il sale e così è la concimazione chimica per la terra e qui veramente penso che non c'è bisogno di essere un scienziato ma basta pensare a modo giusto basta ragionarci di come funziona il corpo umano di come funziona la terra ed è risolto tutto per quanto riguarda invece le culture intensive non c'è bisogno di fare di più dobbiamo cercare di fare di meno perché tanto cibo viene buttato viene distrutto che bastava solo fare un po' regolare tutto quanto e soprattutto meno interesse del umano di creare solo ricchezza la ricchezza è un'altra cosa dobbiamo noi dobbiamo in questo momento cercare di fare ricchezza di cuore ricchezza dell'anima quando riusciremo a fare quello saremo veramente tutti ricchi perché c'è tanta povertà è troppa è troppa diciamo c'è tanta povertà perché tutto quanto è maledistribuita non può essere una persona che ha un guadagno di migliaia di persone che non hanno cosa mangiare spero che in futuro questo si risolve e se questo non sarà risolto vuol dire che la natura farà sì che si dovrà riprendere da capo si partirà partiremo da zero per poi creare un mondo migliore di migliaia